Martelli, Presidente, credo che sia una dimostrazione di come si possa ripartire dalla Calabria dove lei si è impegnato in prima persona con una grande manifestazione atropea, un'altra qui alla mezza terme, quindi credo che possiamo essere soddisfatti. Dalla Calabria abbiamo dimostrato ancora una volta, Presidente, le persone scelte da Berlusconi.